Io sono Carla Birzi, sono una storyteller, una formatrice e un'esperta di comunicazione. Questo corso ha l'obiettivo di porre al centro dell'attenzione tutto quello che non è lo storytelling letterario cinematografico, ovvero quello che in passato negli altri corsi abbiamo tralasciato. Gli aspetti dello storytelling che toccano la pubblicità piuttosto che la comunicazione politica, la comunicazione giornalistica, anche lo storytelling autobiografico, quindi i blog piuttosto che i social network. Ci vorremmo questioni come può un post piuttosto che un tweet influenzare il modo in cui leggiamo la realtà, quando una pubblicità o un banner è genio creativo e quando invece è un veicolo di stereotipi. Come fa un profilo Instagram o un numero di followers influire non solo sul modo in cui gli altri ci vedono, ma sul modo in cui noi stessi ci percepiamo. Tutte questioni quindi che sono molto calde, molto importanti nell'ambito scolastico, e quindi è un obiettivo pedagogico a cui vale la pena ragionare e spendere insieme queste quattro ore.